e benvenuti a tutti amici cripto curiosi se alana sarà la prossima slotana ragazzi capiamo bene che ci sono le meme su rete solana che hanno avuto un successo pazzesco non parliamo solo di slotana che effettivamente ragazzi se andiamo a vedere io slotana l'avevo l'era andata a visionare qualche video precedente ok qualche video precedente vi avevo portato questo asset l'eravamo andati a visionare era in fase di presale ragazzi effettivamente in se mettiamo da quando è stata ci sono stati vari lanci sui mercati e quant'altro ha totalizzato un bel 133 per cento perché mi riferisco a questa cosa qui perché mi riferisco ragazzi a questa cosa qui perché a volte diciamo che gli asset sono rischiosi in presale assolutamente però sappiamo benissimo a quali rischi andiamo incontro però effettivamente ci sono stati dei lanci in queste presale ragazzi che sono andati veramente bene come riguardo slotana ad ora ok ad ora perché naturalmente ad ora il grafico ci parla chiaro ad ora questo asset riuscito a totalizzare un più 180 per cento dopo lo andremo a vedere ha incrementato la sua community ragazzi e quant'altro se alana è un token una meme in presale la foca ok in sostanza semplicissimo è riuscita a raccogliere fino ad ora più di 2 milioni di dollari quindi oggi andiamo a vedere che cos'è se alana se potrebbe se potrebbe fare lo stesso successo che ha avuto slotana oppure no ok oppure potrebbe in sostanza non far nulla ok non potrebbe fare gain eccetera 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 ma prima di tutto vi ricordo vi lascio tutti i link in descrizione vi lascio il link ufficiale di se alana in descrizione ci sono 3000 scam in giro quando fanno queste presale mi raccomando se volete visionarla passate dal link quindi facciamo questo bel video lasciate un like iscrivetevi al canale prima di iniziare e vi ricordo avete il canale telegram ufficiale con il link in descrizione quindi venite all'interno del canale telegram che ogni tanto andiamo a visionare anche queste presale allora se alana diciamo è una meme su rete solana la foca diciamo ecco qui la foca paffuta eccetera 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 asset come dicevamo prima su solana semplicissimo ragazzi c'è poco sul sito ok non c'è diciamo non abbiamo neanche la sezione stake abbiamo in sostanza come comprare chi siamo eccetera però è importante andiamo a vedere qui a quant'è la presale di selana un selana equivale a 0,022 dollari la raccolta attuale sono riusciti a raccogliere 2.089.325 dollari attualmente non si sa effettivamente quando finirà questa presale le varie fasi eccetera comunque sia ad ora il prezzo è questo qui possiamo andare a fare l'acquisto ethereum usdt carta che io lo sconsiglio sempre comunque sia la cosa più logica diciamo più tranquilla da fare è connettere il nostro wallet se uno vuole partecipare ok poi naturalmente fate sempre le vostre valutazioni questo non è un video per spingere comprate che sarà l'asset del secolo ma ognuno può fare quello che vuole però wallet connect best wallet metamask coinbase wallet ok qui dice se non avete se uno non ha il wallet ci vanno a dare un indirizzo dove fare il rete solo dove fare il trasferimento però non fatelo ragazzi connettete sempre il wallet anche per sicurezza ognuno è padrone di quello che fa con wallet eccetera vedete qui c'è l'indirizzo da dex di dicono da dex non da checks di mandare a questo indirizzo qui i token sold comunque sia ragazzi è sempre meglio andare a collegare il wallet andiamo a vedere community telegram i dati che ci vengono forniti 4.782 mila follower ok 4.782 follower l'ultimo post è di tre ore fa poi il 17 maggio 15 maggio comunque molto attiva diciamo che non è una community piccoletta ok essendo una presale uscita a breve da poco tempo quindi in sostanza interessante community telegram 4.825 membri e detto ciò ragazzi assolutamente per chi partecipa anche per chi vuole partecipare alla presale c'è naturalmente da aspettare i vari listing su dex o checks in primis però andiamo a vedere slotrana ragazzi slotrana perché quello che dicevamo prima questo asset è riuscito effettivamente se andiamo sul mensile sui sette giorni 4.50 comunque sia naturalmente ci sono stati vari listing ecco da pochissimo tempo e parliamo del 9 maggio quindi qualche giorno in sostanza ok quindi asset che è riuscito a performare oltre il 180 per cento come abbiamo visto prima i volumi nelle ultime 24 ore ragazzi ebbene si sono aumentati del 182,77 per cento ragazzi che non è poco per un asset di questo genere se andiamo sui checks lo troviamo su xt bitru polonics super ex andiamo sui dex radium orca meteora jupiter eccetera 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 in sostanza è questo se andiamo a vedere sul grafico ragazzi qui siamo sul giornaliero come possiamo ben vedere se andiamo così su due piedi ora faremo anche una piccola analisi sull'orario che si riesce a vedere ancora meglio questo token dalle varie frasi di listing vedete qui abbiamo 0,02 quant'altro abbiamo un gain del 1500 per cento in sostanza per chi ha partecipato alla presale ha holdato il token non l'ha venduto e quant'altro sarà tenuto e nella giornata del lunedì 13 maggio scusate andava a vendere al diciamo alla chiusura al top della chiusura cosa molto improbabile comunque sia ragazzi si è trovato effettivamente a totalizzare quasi un 10 per anzi un oltre 10 per naturalmente in questo caso del genere ok che è molto raro però qui nel giornaliero vediamo che si sta creando effettivamente un triangolo un triangolo di consolidazione del prezzo che effettivamente potrebbe esplodere naturalmente sia al rialzo che al ribasso con la conseguente riduzione dei volumi quindi dando a comprimere anche i volumi questo è semplicissimo ragazzi perché abbiamo uno storico del 10 maggio ok molto ma molto semplice se andiamo sull'orario andiamo a vedere sull'orario ecco vedete qui c'è diciamo questo pattern che abbiamo ricreato prima sul giornaliero però effettivamente questo asset se stavamo su un grafico la orario era andato a effettuare questo bel triangolo qui ragazzi vedete questo bel triangolo qui qui si andava a prendere i minimi era perfetto bam 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 triangolo poi è andato anche a rompere qui nella giornata del 19 maggio l'altro ieri ok io totalizzando dalla rottura un 38,90 quasi 40 per cento ok in sostanza ora l'asset da un trend che era rientrato in positivo sul time frame orario ad ora sembra che stia andando verso no sembra sta andando verso un trend ribassista ok quindi in sostanza questo è addirittura questo è ok ha totalizzato una v al ribasso e naturalmente ci sono varie zone di supporto che si sono create naturalmente resistenze ok qui la grossa zona di resistenza la troviamo a 0,07 all'incirca queste zone qui quindi per quanto riguarda slot lana questo è naturalmente ora l'unica cosa che potrebbe andare a ritestare qui sulle zone queste zone qui dove si sono create sia creata questa zona di supporto naturalmente sembra che l'asset stia andando anche indicatori ce lo dicono vedete la stocastica proprio in zona di iper venduto come l'rsa e diciamo sta andando verso l'iper venduto in sostanza qua ci sono a vari altri livelli di supporto ma naturalmente stiamo parlando di un asset che ragazzi è uno storico di pochissimi giorni quindi si può solo fare una previsione un pochettino così un'analisi tecnica un pochettino blanda comunque sia ne parlano in tanti slot lana diciamo varie previsioni sul prezzo ok nuova volta e mai questo è un articolo di 5 e di 6 ore fa dal lancio virale eccetera 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 si è fatto strada su htx global quindi diciamo se andiamo a vedere qui htx l'avevamo no htx ecclo qui si c'è il listing effettivamente su htx quindi diciamo questa è nata come presel ragazzi ok come presel quindi cioè eccolo qui minuti sting su ht x il 17 maggio ok in 17 maggio e qualche giorno fa c'è stato l'annuncio eccetera qui ringraziano a tutti per il supporto naturalmente ricordiamo che questo asset aveva diciamo il seguito che di serana anche meno addirittura ok andiamo su sulla rich list ve la volevo far vedere perché comunque sia anche bene o male ci sono gli address in totale ad oggi sono 36.000 sono arrivati anche a oltre 37.000 abbiamo tutti gli indirizzi con i vari varie quantità di slotrana tanto per andare a vedere e farci un'idea eccetera quindi fatemi sapere ragazzi nei commenti se conoscevate questo asset questa presale naturalmente attenzione con sempre come con tutte le dovute precauzioni del caso stiamo parlando di una presale e quant'altro quindi naturalmente ragazzi allocio fatemi sapere nei commenti venite nel gruppo telegram e nel canale telegram e fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscevate questa presale ciao a tutti